Appena arrivato un botto di roba, e beh direi Già non me lo dai un bacino alla marena? Non mi piace la marena quindi sarebbe pretenzioso da parte mia Questo eroe più uno più uno servitori nella tua mano Bastardo E' un buffa di ingratis Si giro dei gambioni Già sto scrivendo cose a caso quindi Lui dove morire tipo subito Dicevo, Già sto scrivendo cose a caso quindi se leggi sappi che stai leggendo cose a caso Grazie for comp Ma quindi le dungeon run non le hai registrate a parte i primi giorni live? No purtroppo no Destriere o primordiale E' animali domestici? Ho un cane In realtà i miei hanno un cane che però non è qui E' a Chieri Dove stanno i miei genitori Quanta grossa gente che scena Aia Ok Ok Quando sopravvi... Madonna mia Ho bisogno di darmi una... Di darmi una mossa anche veloce Puoi stare di luna argenta Aia Sbraham Ciao a tutti Ciao Ciao Che cazzo facciamo Luke Grazie per il subscribe per il quarto mese di fila Ben tornato nel mio video scusate dalla morte Che cazzo facciamo Sì ho trovo le quality consacration Vabbè per fortuna è solo... No è un 7-2 Non è un 3-4 Ho bisogno di... Ho bisogno di equality Consacrazione è già qualcosa Ma muoio Muoio ma senza il minimo dubbio Grazie Lei si è adattata... Lei lancia tutte le magie due volte Che cazzo faccio Dai eh Aia il pugnitore Aia il pugnitore Qua la vedo durissima L'inessa o Galvadon? Si è adatta 10 volte Galvadon Su lei lancio tutte le magie che ho lanciato finora Io direi Galvadon e sigillo dei campioni Dai edilinessa dai Mi da adattiamo Scudo divino Più due più due Non possiamo perdere Non possiamo perdere Cure del vento Un altro Nut No vabbè sti cazzi Nut deve sopravvivere No vabbè sti cazzi Questo farà male Signori Nat ci porta alla vittoria Era destino Era destino No vabbè sti cazzi Nat Grazie 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 Perché il Milrog È dentro tutti noi No vabbè sti cazzi No vabbè sti cazzi